Sono stati arrestati Paolo Arata, ex deputato di Forza Italia e docente universitario tra i consulenti della Lega per l'Energia e il figlio Francesco. Sono accusati di corruzione, autoriciclaggio e intestazione fittizia di beni. Sarebbero fosci occulti dell'imprenditore trapanese dell'eolico Vito Nicastri, a sua volta accusato dai magistrati di essere tra finanziatori della latitanza del boss Matteo Messina Denaro. L'arresto è stato disposto dalla DDA di Palermo guidata da Francesco Lovoi. Gli Arata sono indagati da mesi per un giro di mazzette alla regione siciliana, che coinvolge anche Nicastri, tornato in cella già ad aprile perché da domiciliari continuava a fare affari illegali. Oltre che nei confronti dei due Arata, il giudice ha disposto l'arresto per Nicastri e per il figlio Maglio, indagato per corruzione, autoriciclaggio e intestazione fittizia. Ai domiciliari è finito invece l'ex funzionario regionale siciliano Alberto Tinnirello, accusato di corruzione. Una tranche dell'inchiesta nei mesi scorsi finì a Roma perché alcune intercettazioni avrebbero svelato il pagamento di una mazzetta, da parte di Arata, all'ex sottosegretario alle infrastrutture leghista Armando Siri. In cambio del denaro, Siri avrebbe presentato un emendamento al DEF, mai approvato però, sugli incentivi connessi al mini-eolico, settore in cui Arata aveva investito. A Palermo invece è rimasta l'indagine sul giro di corruzione alla regione. A Palermo invece è rimasta la regione.